Entra in campo Parma e Lazio, ventitresima giornata di campionato allo stadio Tardini, senza Radu, senza Lulic, senza Milinkovic, senza Lazzari, senza Correa, una Lazio in piena emergenza vuole provare a continuare a sognare e a stupire contro un Parma che ritrova invece molti di quei titolari che durante la settimana erano stati dati in dubbio. C'è ancora Luiz Alberto, c'è ancora Marusic a destra, Luiz Alberto fa tutto da solo, arriva dentro, si ferma, non trova nessuno, la preferisce girarsi dentro immobile, Caicedo, gol! Gol! E' il gol! La Pantera non sbaglia dal dischetto del rigore, si gira e insacca le spalle di Radu, 1-0, il cross di Luiz Alberto, immobile, ha tentato di intervenire, la palla è rimasta lì, Caicedo non ci ha pensato su due volte, ha calciato di prima intenzione, ha insaccato il gol dell'1-0. Lazio 1, Parma 0, la Pantera con il destro dall'interno dell'era di rigore. ...da fare 94 minuti, 50 secondi, punizione che batte il portiere Colombi, pallone sulla sinistra per Pezzella che avanza, scocca anche il quinto di recupero, Pezzella alce il pallone in avanti al limite dell'era di rigore, colpo di testa dentro, Cusca viene anticipato, bisogna allontanarla, attenzione ancora a Kuluseschi, il cross fuori! ...tiro cross che termina sul fondo, 95 minuti, 13 secondi, siamo oltre il quinto di recupero con il tentativo di Kuluseschi, che a giro con il sinistro ha calciato alto sopra la traversa, pallone che è uscito di pochissimo! ...grande occasione per il Parma, 95 minuti, 30 secondi, si è dimenticato il fischietto di Bello, tutti aspettano solo il trebice fischio, rinvio di Stracoscia, pallone che spiega a centro campo, colpo di testa di Correa anticipato, poi Luis Alberto protegge il pallone, lo tiene lì, tra tre avversari, lo fa avanzare ancora sulla sinistra, il tocco è per Cataldi, anzi è Correa, salta l'avversario, ...avanza, lato corto del rigore, Luis Alberto a terra, Correa fermato, finisce qui! ...nonostante cinque assenze, senza Radu, senza Milinkovic, senza Lulic, senza Correa, senza Lazzari, abbiamo vinto anche a Parma, siamo a meno uno dalla Juve, siamo a meno uno dalla Juve, la Lazio vince anche a Parma, 1 a 0, decide la Pantera, la Lazio ha vinto anche questa, senza tanti giocatori, con tantissime assenze, su un campo difficile contro un avversario che era in salute e che aveva recuperato tutti, la Lazio c'è ed è a meno uno dalla Juve, Parma a 0, Lazio a 1!